e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ahimè anche oggi un'altra giornata senza nessun aggiornamento per quanto riguarda le patch notes di fortnite purtroppo nella community che ruota intorno al game comincia a crearsi un certo disagio appunto non essendo abituati a non ricevere aggiornamenti importanti ogni settimana molti si stanno lamentando vedo leakers nel panico non sanno cosa fare giustamente non sanno quali contenuti portare io cercherò sempre di tenervi aggiornati su tutte le notizie di fortnite nel video di oggi parleremo della possibile arena duos nella season numero 2 di questo capitolo numero 2 di fortnite cominciano ad apparire delle immagini molto interessanti e alcuni pro player di livello mondiale fanno delle allusioni molto molto interessanti per quello che potrebbe riguardare il ritorno del competitive in duo di fortnite ma parleremo anche di un premio che ha vinto nuovamente il campione del mondo in carica di fortnite ovviamente stiamo parlando del nostro caro buga e tante altre novità tra cui un bug incredibile che vedremo in un video che è successo un tizio mentre stava aprendo un airdrop veramente pazzesco prima di tutto però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi ea farmi compagnia in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per tutto il vostro supporto e grazie anche a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xyuderone mi raccomando ragazzi non dimenticatevi di iscrivervi ai canali e soprattutto non suona di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica nei miei video prima la domanda domandina ve la devo fare ragazzi la domandina ci sta tutta e anche in quella di ieri mi avete risposto in tantissimi domanda di oggi molto particolare ma qual è il tuo oggetto più raro di fortnite potrebbe essere una skin potrebbe essere un deltaplano potrebbe essere uno standardo potrebbe quello che pensi sia la cosa più rara che hai io ci ho pensato un po ho lo spray galaxy lama che secondo me abbastanza raro da ottenere ma ho la skin del cavaliere del ragno bianco ma secondo me il mio oggetto più raro è il mako lo si otteneva nella season 1 arrivando a livello 25 se non ricordo male ora è passato veramente tanto tempo reputo che sia attualmente uno degli oggetti più rari in assoluto ditemi qual è il vostro qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito subito a parlare ragazzi del primo argomento che sono i games awards che cosa sono i games awards praticamente sono i riconoscimenti i premi che vanno dati ai videogiochi che si qualificano appunto perché si sono distinti nel mondo appunto per un sacco di fattori sono un pochettino come la notte degli oscar tra virgolette quindi se volessimo fare un paragone abbastanza simile tra l'altro ovviamente si qualifica anche fortnite per una categoria molto interessante best community support e qua infatti ha cominciato il flame violentissimo da parte della gente perché insieme a fortnite c'è apex legends final fantasy 14 tom clancy rainbow six siege e destiny 2 la cosa che ci fa veramente ridere è che hanno dato la possibilità di vincere questo premio the peak games quando in realtà diciamo che in questa season o meglio a partire dal 14 ottobre con la community non è che si sono proprio diciamo esposti come hanno fatto e nei capitoli precedenti infatti abbiamo anche direttamente la descrizione vi ricordo che potete cercare su google game awards e fare la vostra votazione per dare così un supporto comunque alle case produttrici di videogiochi che sicuramente si meritano un nostro voto e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi vi stavo anticipando all'inizio del video il bug fortnite ovviamente molti lo chiamano bug night perché tutti sappiamo che sempre sempre ci sono i bug non ti salta ti si incastra ti passano attraverso i muri colpi colpiscono e poi succedono adesso ne abbiamo uno nuovo che io non avevo mai visto più che un bug mi sembra un troll sinceramente succede non sempre a me personalmente non è mai successo ma all'apertura di un airdrop voglio farvi vedere la clip perché è veramente molto divertente c'è questo giocatore che come vedete aspetta il suo airdrop gli va a sparare qualche colpo ovviamente per velocizzarne la discesa riesce a distruggerlo l'airdrop tocca terra lui lo va ad aprire dentro solamente una trappola rimane pietrificato per pochi secondi e comincia con un certo fare compulsivo di piccone a spaccare i cespugli che ci sono di fianco è un bug pesante perché non ha trovato niente quindi ci è rimasto malissimo però ho visto dei commenti di altri giocatori che hanno avuto lo stesso problema e che dicono che in realtà le armi e il loot dell'airdrop va semplicemente sotto terra alcuni sostengono di averlo ripescato con la canna da pesca in realtà il supporto di epigames invece si è mosso per questa segnalazione che ha quindi ringraziato per averla fatta presente e sostenuto che la sistemeranno nella patch 11.20 se mai arriverà una patch 11.20 e andiamo avanti nel prossimo argomento di oggi eccolo qua ve la ricordate questa immagine se non ricordo male questa immagine era relativa al winter royal dell'anno scorso sicuramente c'era del competitive io non seguivo molto il competitive giocavo più che altro come ho sempre fatto penso di aver fatto comunque qualcosina perché già raggiunsi l'arena champions ma la cosa veramente interessante è che tutti stanno chiedendo a gran voce ovviamente la possibilità di avere il competitive in duos e arriva un'immagine davvero molto molto interessante fortnite winter royal duos non si sa la fonte quindi io non posso dirvi ufficialmente che è presente nei file no non me la sento di dirvelo però diciamo che la richiesta è talmente ampia in tutto il mondo che non può passare inosservata ai capoccioni di epic games ed è molto molto probabile che vedremo un competitive in duos nel capitolo 2 di fortnite la cosa che mi lascia un pochettino così a cosa sono le immagini che i pro player stanno pubblicando sui loro social ad esempio mongrel ha pubblicato l'immagine dove farà la duo con benjifish e non è l'unico ne ha pubblicato un'altra anche mister savage che però ha preferito mantenere anonimo il suo compagno di squadra insomma qualcosa si sta muovendo non sappiamo che cosa ovviamente non appena ci saranno informazioni anche voi sarete i primi a saperle e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi eccolo qua sorridente come se non avesse visto altro che non voglio esagerare a dire che cosa il signor buga ragazzi come vedete tiene in mano un nuovo premio si ragazzi perché è stato premiato e vi dico esattamente con precisione qual è stato il suo premio perché lo ha preso agli esports awards ha preso il premio come pc rookie of the year quindi miglior giocatore da pc dell'anno penso che sia questa una traduzione rookie ora non so se sia proprio migliore comunque il bugone ragazzi continua a prendere premi su premi e follower su follower e quindi un applauso ovviamente a quello che tutt'oggi è sicuramente uno dei giocatori se non il giocatore più forte del mondo di fortnite insomma ragazzi anche per oggi le news sono terminate io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao ciao ciao